Sì, ed è bello che siano dei ragazzi, sono degli studenti con i loro insegnanti, si è lavorato nelle classi mescolando insieme anche i diversi ordini e gradi delle scuole e però si arriva poi nel cuore della città, quasi a dire che la partecipazione non può essere un mero discorso ma è un'esperienza, un'esperienza che coinvolge altri. E poi bella la metafora della tovaglia che viene dispiegata per la città e attorno alla quale ci si siede, si condivide ma c'è anche il tempo, lo spazio, le energie, lo sforzo per ricordarci di chi più è nel disagio per cui anche una raccolta di generi per le persone più svantaggiate. L'evento, il flash mob di domani, giovedì 11, è il coronamento di un lungo itinerario fatto con le scuole di ogni ordine grado, italiane, slovene e di Trieste con il coinvolgimento di 1900 studenti e 1100 studenti presenti domani in piazza. I ragazzi hanno riflettuto con gli insegnanti ma anche tra di loro su questo tema fondamentale della partecipazione come essere protagonisti di una vita in senso proprio principale, attivo e non essere succubi ma vivere con questo senso di tener conto che la società è qualcosa in cui noi siamo protagonisti. E dà l'avvio poi a questo aspetto e questo evento poi ha fatto sì che questi ragazzi possano conoscere la settimana sociale ed essere anche un fondo protagonisti. Questa grande tovaglia verrà appesa nella sede della settimana sociale e vorremmo anche che fosse presentata al Papa nella sua visita a Trieste. Secondo noi fondamentale nel senso che abbiamo pensato questo tipo di laboratorio proprio perché volevamo avvicinare nuove generazioni ed era una cosa complicata da fare dal punto di vista teorico e quindi siamo passati all'aspetto pratico, al laboratoriale e quindi siamo riusciti a intervenire con delle attività che coinvolgessero generazioni diverse, i ragazzi più grandi delle superiori, i ragazzi più piccoli delle medie fino ad arrivare alla primaria, alla scuola dell'infanzia in un lavoro di tutoraggio a cascata che è stato fenomenale perché li ha coinvolti emotivamente in maniera molto significativa. Grazie a voi di essere qui. 26 istituti scolastici della città e 1870 studenti di ordini scolastici differenti e protagonisti. Penso che sia questo il messaggio più bello. Non si vuole soltanto parlare della partecipazione ma si vuole vivere e far fare, introdurre in una esperienza di partecipazione. Grazie a tutti.